A vincere il nono trofeo Paolo Pinto nella classifica per società per il quarto anno consecutivo è il Cus Bari, forte dei suoi 90 atleti, seconda società sportiva classificata allo Sport Club SSD e terza classificata all'Adriatica Nuoto. Sui blocchi di partenza più di 650 atleti provenienti da numerose regioni d'Italia appartenenti a ben 51 società sportive iscritte alla gara, un weekend di grande competizione svoltosi nella piscina coperta dei 50 metri del Cus Bari per uno degli appuntamenti più attesi. La manifestazione organizzata dal Centro Universitario Sportivo di Bari in collaborazione con l'associazione Albatros Progetto Paolo Pinto Onlus è inserita nel circuito Super Master delle gare ufficiali della Federazione Italiana Nuoto ed è il primo meeting regionale in vasca lunga. Tra le migliori prestazioni maschili Giovanni Carlo Perrulli classe 1981, femminili Daria De Scicciolo classe 90, migliore combinata dei 100 stili, 800 stile libero maschile e femminile è stata assegnata una targa combinata Paolo Pinto a Mauro Manno e Raffaella Perrotta. Per i veterani premiato nella categoria maschile Amedeo Picca classe 1937 nella categoria femminile Anna Maria Sica classe 1952. È stato sempre il sogno mio per portare Paolo di nuovo in mare perché voi lo sapete la piscina ha cominciato con la piscina ma il mare è stata la sua vita quindi proprio qui oggi parlavamo con i vari presidenti con i vari atleti e perché no fare una sinergia e scegliere una bella località un bel comune che ci dà una bella possibilità per fare l'anno prossimo una gara in mare di nuoto di gran fondo. Soddisfatto anche il presidente del CUS Bari Giuseppe Seccia che oltre a ricordare la figura di Paolo Pinto spiega che il nuoto insieme ad altre discipline è una delle più partecipate all'interno della struttura. La soddisfazione è doppia perché noi del CUS siamo legatissimi a Paolo Pinto Paolo Pinto era uno dei nostri atleti di punta sia quando gareggiava in piscina sia poi quando finita l'attività in piscina si dedicò alle grandi traversate seguito tra l'altro da preparatori a 13 del CUS quindi lo sentiamo veramente come uno di noi che purtroppo ci ha lasciato prematuramente. Per le società provenienti dal sud Italia il trofeo Paolo Pinto è anche l'occasione per una prova in vasca lunga prima dei campionati italiani a Palermo dal 10 al 15 luglio e dell'europeo in programma a Crant nel prossimo mese di settembre. Presenti alla premiazione anche l'assessore allo sport del comune di Bari Pietro Petruzzelli, il presidente del CONI Puglia Angelo Giliberti e il vice presidente del CUS Bari Renato Laforza. Qui hanno fatto un gran numero di partecipanti credo intorno a 700 che è un record per questa manifestazione poi dopo tutto Paolo Pinto ha lasciato un bel ricordo e credo ci siano delle novità per l'anno prossimo per questo trofeo che probabilmente si sdoppierà in piscina ma anche al mare.